Questi coinlocker, cioè degli armadietti, sono veramente molto molto popolari qua in Giappone. Come vedete qui a Shinagawa, che è una stazione grande ma non è una delle più grandi, ce ne sono veramente veramente tanti, anche dietro qua ce ne sono alcuni. C'è un sacco di gente che mette le proprie cose per non avere il peso dei bagagli o delle borse, degli acquisti per tutto il giorno, sono molto molto comodi. Guardate quanti. Ce ne sono di tutte le dimensioni. Queste addirittura si possono usare con la suica. Vedete ce ne sono altri qua, qui ci sono dei distributori automatici e ce ne sono altri laggiù. E qui altri. E anche questi si possono usare con la suica.